Il grande volley è pronto per sbarcare a Livorno. Dopo la sfida della nazionale azzurra di basket contro l'Ucraina sabato 28 ottobre alle 17.30, il Modigliani Forum di Porta a Terra ospiterà la finalissima della 28esima edizione della Supercoppa Italiana Femminile. È una partita unica che abbiamo deciso insieme alla Lega di portare a Livorno. Livorno, città che risponde sempre molto bene ai grandi eventi sportivi. Abbiamo ottenuto appositamente i prezzi di biglietti calmierati. Basti pensare che i prezzi in vendita partiranno da 10 euro, proprio perché la volontà è quella di fare una festa del volley, una festa del volley che conto, una festa dello sport a Livorno. Sono convinto che ci sarà una risposta molto importante da parte della città, della Toscana, ma anche una risposta a livello nazionale. Io credo che avere un evento in un palazzetto con questa capienza, con questo livello di giocatrici in campo sia qualcosa che possa far bene al movimento. Quindi mi aspetto una bella risposta del territorio. Oggi ho sentito tantissimo entusiasmo in conferenza stampa da parte di tutti gli addetti ai lavori. Quindi sono sicuro che solo con una bella sinergia tra tutti noi riusciremo a riempire questo impianto, che è quello che tutti noi vogliamo per creare un grande spettacolo.